ben ritrovati dicevo la scorsa settimana che ritengo importante all'inizio di questo arco di tempo che sia davanti dopo le vacanze la ripresa di un nuovo anno fermarsi un attimo come famiglie e individuare alcuni impegni alcune responsabilità alcuni modi di essere o di comportarsi quali per esempio io ritengo che tre siano essenziali in un buon percorso di rapporto innanzitutto quello di proporci insieme di vivere una dimensione di grande rispetto nei nostri atteggiamenti nei nostri comportamenti nelle parole che usiamo nel modo di metterci in rapporto in secondo luogo credo che la sincerità sia una dimensione essenziale la sincerità nei momenti in cui tutto gira perfettamente ma anche nei momenti in cui c'è burrasca e vale la pena di essere molto schietti e sinceri e affrontare i diversi problemi e infine ritengo utile che la nostra vita di casa di famiglia i nostri rapporti siano improntati alla gioia anzi dico di più penso sia fondamentale creare durante questo anno che ci sta davanti momenti di gioia momenti di vita insieme che ci fanno sperimentare il bello di stare insieme buona settimana